che si esce dai come on dai ah con le scarpe di cazzo moscio c'è che costa un giacchetto c'è le scarpe porca madonna ma perché ci venite tutte e due no 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 quale sei non c'è ma sei incazzato perché vieni mia nonna ma tu sei lì no no e gli orari e io tu non li vuoi esatto tu che stai in giro fino alle 9 di stasera a quello per stare lì a quello per stare lì eh davvero via zaccate che vuole fare lui vuole scappare da solo eh furbetto il furbetto del quartiere eh il bulletto con le scarpe di cazzo moscio metto la federica da me con le mani da fermo voleva fare il bullo nonna maria è arrivato il casinaro io sono io e gli altri e voi altri non siete un cazzo bello di roma non me la fermate fermate che è arrivata la che è arrivata la che è arrivata la che è arrivata la che è arrivata allora sta ferma che le mani vero guarda vieto ma ma te che ti sei fermata a fa no come mai ti sei fermato ma te sei لure i cazzi nostri no ma costi affari pungenti che hai detto porca ho detto madre superiore no dalle sore assassino fermati terrorista ma anche ieri sera coi mortaletti sto bandito il caffone l'avevamo lasciato noi andiamo a prendere una bella tisana bravo sei contenta? beh vai